Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 31 maggio, mercoledì 31 maggio. Quali sono i temi dei giornali? I temi dei giornali sono altri rispetto a quello a cui io voglio partire, ve lo dico subito. Io parto con il giornale oggi. Parto col giornale, parto con un bellissimo articolo di Alessandro Sallusti, il cui titolo è il seguente. E ora aspettiamo le scuse dai complici di Fini. Come sapete Fini gli hanno sequestrato un milione di euro di polizie. Come sapete alla moglie di Fini, la Tugliani, hanno sequestrato insieme ai fratelli 5 milioni di euro. Come sapete il fratello della moglie di Fini è latitante a Dubai con un mandato d'arresto e non torna in Italia. Come sapete Corallo, amico di Fini, è latitante alle isole dei Caraibi per una brutta storia di slot machine tangenti pagate. Come sapete anche Fini è in pieno marasma giudiziario. Ebbene, noi ci ricordiamo, e se lo ricorda bene Sallusti, si toglie un po' di sassolini dalle scarpe, cosa successe nell'estate del 2010? Quando il giornale per prima tirò fuori, grazie a Livio Caputo, la storia della casa di Monte Carlo, che non era in sé importante. Era in sé importante che la faccia da destra pulita Fini avesse venduto, svenduto una casa ereditata da N, l'avesse svenduta al fratello di sua moglie per 300 mila euro. Questa era una banale inchiesta giudiziaria fatta dal giornale che ebbe tra l'altro un grandissimo successo in ridicola. Non di opinione pubblica, mi ricordo io personalmente gli insulti che ebbi da quel deficiente di Granata, un fascista siciliano, che alla fine di una trasmissione neanche volle stringermi la mano. E voi vi ricordate, sapete bene quanto in realtà io non sia proprio una delle persone più aggressive del mondo in televisione, anzi qualcuno di voi dice che sono sin troppo buono. Granata neanche mi stringeva la mano, perché io facevo parte della macchina del fango. Napolitano diede solidarietà, il Presidente della Repubblica ha Fini. Nel 2010 ci perquisirono il giornale, io fu indagato, fu indagato anche Sallusti per la questione Marcegaglia e Fini diede, cara Emma, cara Emma, solidarietà, perché Emma l'aveva data nei giorni precedenti a Fini, tutti insieme, Marcegaglia, Napolitano, Fini, Filippo Rossi, Benedetto della Vedova, un amico radicale ma che ci trattato come se fossimo dei cani appestati, facevamo un giornalismo di merda, dicevano. Ecco, dopo 7 anni si è visto che avevamo ragione su tutto, anzi avevamo scritto meno di quello che poi si è scoperto, tangenti, slot machine, arresti, polizze, quattrini. Ecco, quello che oggi Sallusti chiede è chiedeteci scusa adesso Napolitano, Marcegaglia, Saviano che ci aveva paragonato a una specie di loggia massonica, chiedeteci scusa, non ce lo chiederà nessuno, noi continueremo a scrivere quello che ci pare e io a dire in questa mia rubrica quello che voglio. Secondo tema, quello fondamentale ovviamente della giornata perché di Fini all'epoca ci sputtanavano tutto, oggi quando invece gli hanno sequestrato un milione di Euro di polizze, nessuno ne scrive quanto ne scriviamo noi. Bene, adesso il tema è la legge elettorale e l'accordo elettorale oggi c'è perché ieri si è visto il PD con Forza Italia e sostanzialmente l'accordo a tre PD Forza Italia e Movimento 5 Stelle fa sì che ci siano le maggioranze sia al Senato sia alla Camera per far passare questa benedetta legge elettorale alla tedesca che vi dico subito sarà un casino, l'unica cosa buona è che c'è uno sbarramento al 5%, quindi ha un effetto di decespugliatore, quindi i piccoli partiti non potranno andare alla Camera e quindi i 3-4 partiti che riusciranno a passare lo sbarramento avranno voti inferiori ai seggi, cioè sostanzialmente avranno più seggi di quanto si meritano perché alcuni voti, quelli che arrivano al 4%, 3,5% eccetera verranno dispersi, non potranno avere rappresentanze parlamentari e quindi i 3-4 partiti più importanti avranno più peso all'interno del Parlamento. Potrà fare di questo meccanismo il Parlamento più governabile? No, perché né Forza Italia né PD né Movimento 5 Stelle rischiano di avere maggioranze possibili per poter governare da soli. Oggi Sorgi però ha scritto sulla stampa un'idea un po' secondo me balsana, però interessante, intelligente, dice ma perché Movimento 5 Stelle che fino a poco tempo fa avrebbe denunciato questo accorto come il grande inciucione tra Forza Italia e PD avrebbe fatto Diavola 4 accetta subito, il Movimento 5 Stelle dice Sorgi accetta subito intanto perché si cura dei suoi voti e poi perché sa che con questa mossa il Presidente della Repubblica Mattarella che ci teneva molto al passaggio di una nuova legge elettorale qualsiasi essa sia, questa è l'Italia, il Presidente Mattarella se il Movimento 5 Stelle dovesse diventare il primo partito, cioè prendere più voti degli altri con il sistema proporzionale dovrebbe incaricare uno di loro a fare il governo e sostiene Sorgi, forse il Movimento 5 Stelle potrebbe ottenere anche voti in Parlamento da Lega e Meloni, questa è la fantascienza di Sorgi, non che il Movimento 5 Stelle arrivi prima perché potrebbe essere, ma che io voglio vedere quando i leghisti veneti, lombardi di Bergamo e di Brescia possono votare i rappresentanti dei 5 Stelle, io lo voglio vedere, poi dopo come tornano i loro collegi a casa pur essendoci il proporzionale. Il giorno il Codidato Nazionale fa un titolo che si chiama Sbarrati e mette Alfano, D'Alema, Bersani, Flatoianni e persino la Meloni perché dice che sostanzialmente con questo sbarramento del 5% queste sono le facce che non vedremo più. Calabresi Piagnucola, il direttore di Repubblica, quello che si è inventato la rubrica La Macca di Serra sovra la testata, per dirvi l'originalità del direttore della Repubblica e dice che andremo alle elezioni senza prima aver messo in sicurezza i conti perché secondo lui se le elezioni si fossero tenute alla fine della legislatura cioè a febbraio del 2018 noi avremmo messo in sicurezza i conti, cioè i parlamentari che stanno per essere eletti avrebbero messo in sicurezza i conti dopo 20 anni che non li mettono in sicurezza. Ecco, secondo Mario Calabresi non si deve votare ora perché in tre mesi finalmente tutti si rinserviscono e rimettono in sicurezza i conti. Calabresi vive in un mondo un po' suo, comunque ognuno c'è il mondo che si merita, mettiamola così. Il messaggero c'è soltanto un punto di vista, un filo diverso che vi segnalo e cioè è che sostiene che Renzi abbia accettato ob torto collo questa riforma elettorale, io ci credo proprio poco conoscendo Renzi che lui possa accettare ob torto collo qualcosa e lui che l'ha proposta adesso fince attraverso le sue veline di averla accettata ob torto collo. Una piccola precisazione, ieri dicevamo durante questa rassegna stampa che Berlusconi avrebbe accettato anche di non avere la soglia del 5%, ieri invece ha detto ma altro che 5% io voglio la soglia anche dell'8%, cioè ha smentito le dichiarazioni che sono uscite ieri sui giornali. Io ho una piccola intuizione, ieri Berlusconi è stato assillato da ambasciatori di Alfano, dei centristi che ha detto ma Cavaliere aiutaci tu perché sotto il 5% per noi è un disastro e Berlusconi che dice di sempre di sì, in genere l'ultimo che lo interpella, avrà chiamato Renzi e gli ha detto Renzi vediamo di fare qualcosa, davanti a questo interlocutore vediamo di fare qualche cosa su questo sbarramento del 5% e Renzi aveva detto ovviamente no, Berlusconi avrà messo giù e detto eh io ci ho provato, Renzi che è un paraculo e sa gestire bene l'informazione avrà fatto arrivare la velina ai giornali che Berlusconi ha provato a fare più del 5%, di togliere questo sbarramento del 5%, cosa che il giorno dopo Berlusconi ha smentito. Questo è diciamo un quadretto fantascientifico che mi sono fatto di questo piccolo giallo sul 5-8%, quello che è certo è che il 5% ora come ora esiste, solido come poche cose al mondo. La Raggi ha il processo di Marra, un processo per corruzione tra Marra e Scarpellini per una casa che Scarpellini avrebbe dato prezzo ragionevole, molto più che ragionevole a Marra, è emersa la seguente cosa che il sindaco di Roma, Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle ha detto che anche se processata non si dimette. Bene, bisogna vedere cosa ne pensa il Movimento, però anche questo è un passo diverso rispetto al Movimento 5 Stelle di un tempo, lo trovate su tutti i giornali. La Berlinguer secondo Italia Oggi, la conduttrice di carta bianca, avrebbe un programma che va molto male secondo Italia Oggi per chi fa risultati non buoni e secondo Italia Oggi sarebbe candidata proprio per questo ad andare a fare la corrispondente a Parigi della RAI, cioè io non so se vada bene o male, ma se va male la mandano e la premiano, beh, questo è molto la RAI. Ultima cosa, ultime due cose, l'ILVA diciamo che si avvicina a grandi falcate verso Mittal, Arcelor Mittal che è la grande società indiana in cui c'è una piccola parte, la Marcegaglia, oggi si capisce a cosa serva la Marcegaglia, dicenziano 6 mila persone in questa nuova ILVA, cioè con i RIVA, con i vecchi proprietari servivano, con i nuovi proprietari, lo Stato negli ultimi tre anni ha perso 3 miliardi di Euro, hanno chiuso un alto forno e devono licenziare 6 mila persone, perché gli alto forno non è che si accendono esattamente come le lampadine e poi il progetto industriale di questi indiani è evidentemente diverso rispetto ai RIVA, quindi abbiamo fatto bene a togliere ai RIVA questa azienda, ma comunque lasciamo perdere questo, licenziare 6 mila persone, perché la Marcegaglia serve? Perché oggi tu leggi in fondo del Sole 24 ore, e ti leggi il Sole 24 ore, che è il giornale della Marcegaglia, non della Confindustria, perché la Confindustria sana gli fanno una marchettina ogni tanto, ma non riesce a dire veramente l'imprenditoria sana quello che pensa, perché se lo potesse dire altro che quello scriverebbe, e oggi riesco a capire sul Sole 24 ore che la cordata della Marcegaglia è stupenda, che si licenziare 6 mila persone, mentre l'altra cordata che io non conosco, non lo so, dal Sole 24 ore riesco a capire che l'altra cordata era una cordata dell'ultimo minuto, in cui c'erano del vecchio, c'era un signore che era arvediche in quell'azienda da 20 anni con i RIVA, quella era dell'ultimo minuto, mentre quella della Marcegaglia di Banca Intesa, che è arrivata, sì, Banca Intesa all'ultimo minuto, invece è una grande cordata straordinaria, e sì, c'è questo dettaglio che lì ce ne sono 6 mila persone. L'altra cosa fantastica è, oggi la tira in Corriere della Sera, in prima pagina, quella foto tra Bush e Bono. Bono, quel rompicoglioni Bono che ci ha fatto una testa così contro Bush, contro la destra, contro i repubblicani, va a prendere il suo jet privato, perché questi girano con gli jet privati anche se vogliono che la fame nel mondo diminuisca, prende il suo jet privato e va in Texas nel ranch di Bush e dice grazie Bush per tutto quello che hai fatto per l'Africa. Insomma, tutto questo è il solito, ci accorgiamo che Fini è non un coglione come si è definito lui, è come dice oggi Sallusti, ma è qualcosa di più, ce l'accorgiamo dopo 7 anni e ci accorgiamo forse dopo altrettanti che Bush non è stato certamente peggio di Clinton o di quelli che lo hanno seguito come Obama. Vabbè, volete che parli di Ceta? Io non sono un tuttologo, mi informerò e ve ne parlerò bene, anche se ovviamente so di che cosa si tratta. Sentite, vi do un abbraccio, vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!